7.39 minuti, buongiorno a tutti voi e ben trovati a questa prima edizione del telegiornale. Allora, in apertura parliamo di Giorgia Meloni che polemizza con un botta e risposta con la Commissione europea a proposito della vicenda del dossier Ita-Lufthansa. Ha detto che è curioso, dice che la Commissione blocchi la soluzione. Secondo il MEF il dossier non ha ancora ricevuto il via libera per perfezionare di fatto l'intesa siglata a mesi. Vediamo da mesi, vediamo il servizio. Prima di partire per Doha, accompagnata dal Ministro delle Economie e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, dove è incontrato e cenato con l'emiro del Qatar, la Presidente del Consiglio a chiusura del G20 a New Delhi lancia due siluri in direzione di Bruxelles. Sferza, sorpresa, la Commissione europea sul dossier matrimonio Lufthansa Ita-Airways al vaglio della Commissione concorrenza. Un curioso stallo lo definisce così la Meloni. Secondo la Premier ci sarebbero ritardi sul via libera. L'irritazione dell'Unione è palpabile. La Commissione fa sapere che non hanno ricevuto nessuna notifica sull'accordo delle due compagnie aeree. Questione che fa emergere i rapporti tesi con l'Unione europea. E poi l'altra sferzata è rivolta al nostro commissario Gentiloni, non competente sulla materia, ma colpevole di non impegnarsi abbastanza per portare a casa il dossier, di non indossare la maglia della Nazionale, per parafrasare Matteo Salvini, che lo aveva per primo attaccato. Per le opposizioni sono comunque attacchi scomposti, segno di difficoltà per la manovra finanziaria. Lo dice la segretaria del PD Schlein, in chiusura della festa dell'Unità di Ravenna. La leader dei Demma annuncia una manifestazione in autunno per la sanità pubblica in difesa del potere d'acquisto delle famiglie. Per il vice-premier Tajani invece non esiste il diritto di lese maestà. Penso sia legittimo criticare un commissario europeo, ma l'Europa è fonte di agitazione anche interna alla maggioranza, con Salvini che annuncia la presenza di Marine Le Pen a Pontida per la kermessa del Carroccio del 17 settembre. E allora, il prossimo G20 si terrà in Brasile. Il presidente Lula ha anticipato che ci sarà anche Putin, il presidente russo così è stato rassicurato, di fatto contro il mandato di cattura internazionale che chiaramente lo persegue da mesi, da quando ha invaso l'Ucraina. E in Ucraina, nei territori occupati, ieri si è votato, ha vinto il partito di Putin con il 70% delle preferenze. Ma vediamo com'è andata. Sono stati grandi assenti al G20 di Nuova Delhi, su Vladimir Putin pende un mandato di cattura internazionale, mentre Xi Jinping ha deciso di disertare il vertice, terminato con un successo per l'India, con il premier Narendra Modi che ha siglato un importante accordo per le infrastrutture che collegheranno l'India al Medio Oriente e all'Europa, surclassando di fatto la via della seta dalla quale anche l'Italia si sta tirando indietro. Non voglio contenere la Cina, in questo momento scia delle difficoltà, detto il presidente americano, che ha avuto un incontro definito non ostile con il primo ministro cinese Li Qiang. Chi invece può ritenersi relativamente soddisfatto è proprio Putin, visto quanto è stata annacquata la dichiarazione finale sull'Ucraina e ha sorpreso l'annuncio di Lula che inviterà Putin in Brasile al prossimo G20 tra un anno nonostante il mandato di arresto per crimini di guerra in Ucraina, dove è arrivato il risultato senza sorpresa del voto nei territori occupati dai russi con la vittoria del partito di Vladimir Putin dato ad oltre il 70%, voto che non ha interrotto i combattimenti, proseguiti anche nella notte dopo la morte sabato di due cooperanti, una spagnola e un canadese. E lo avete visto nelle immagini, il presidente degli Stati Uniti Biden ha partecipato al G20, subito dopo si è spostato in Vietnam e qui è stato protagonista di una conferenza stampa davvero particolare perché stava rispondendo alle domande dei giornalisti, stava parlando quando è stato interrotto dalla sua portavoce ed è stata diffusa nella sala una canzone jazz. Biden non si è reso proprio conto subito di quanto stesse accadendo, ha continuato a parlare a microfono spento rispondendo ai giornalisti e poi ha dovuto però abbandonare il palco. E adesso andiamo in Marocco, vediamo com'è la situazione con il violento terremoto che ha colpito il paese nordafricano, oltre 2.100 le vittime accertate ma si pensa che possano essere molte di più, sono altrettanti i feriti finora estratti dalle macerie, si continua a scavare ma molte zone del paese non sono state ancora raggiunte dai soccorsi. Le strade di montagna sono inaccessibili, è tutto franato e con loro anche le tipiche case dei villaggi fatte di pietra e legno. Le ruspe scavano senza sosta, le immagini sulla catena montuosa dell'Alto Atlante sono queste, operazioni di soccorso difficili, continua la ricerca di eventuali sopravvissuti nelle zone più isolate. Il governo del Marocco ha fatto sapere che si sta facendo tutto il possibile per accelerare la macchina dei soccorsi affinché le ambulanze possano raggiungere i villaggi distrutti dalla devastante scossa di terremoto. Migliaia di medici e infermieri sono stati mobilitati per fornire assistenza medica agli oltre 2.400 feriti, il bilancio delle vittime è salita 2.122, ma si prevede che questo numero aumenterà ulteriormente. Anche gli uomini dell'esercito sono impegnati a scavare sui social, oltre agli appelli di aiuto, tra la popolazione cresce la rabbia di chi si sente lasciato solo. Nei villaggi di montagna i sopravvissuti attraverso i social postano immagini i corpi delle vittime trasportati sul dorso degli asini a causa del ritardo degli aiuti. Il governo marocchino ha istituito un fondo speciale per sostenere la popolazione colpita. In tutto il paese c'è timore per le nuove scosse di assestamento. Molte persone hanno passato la terza notte per le strade. Si fatica a trovare cibo e acqua. C'è ancora preoccupazione per una famiglia italiana bloccata in montagna sul Ticintest. L'ambasciata italiana in Marocco ha assicurato che il caso è seguito di continuo. Intanto prosegue gradualmente il rientro in Italia dei connazionali partiti dagli aeroporti di Casablanca, Rabat e Marrakesh. C'è una notizia appena battuta dalle agenzie. In realtà è un appello, una denuncia di Don Patriciello. Stiamo parlando quindi di Caevano in provincia di Napoli. Ha detto di Cinsella le loro moto sono arrivati ancora una volta. Volti coperti, armi pesanti in mano, sfrecciando per i viali e sparando all'impazzata. È il terrore, così ha detto Don Patriciello. Allora continuiamo con la cronaca, però parliamo di scuola perché sono 7 milioni gli studenti che tornano in classe. Con però le nuove regole anti-bullismo e anche con la nuova figura del tutor iniziano quelli di Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta. Vediamo. Sette milioni di studenti da oggi tornano a scuola. Si parte con Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta, domani Lombardia, mercoledì Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia, Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto. Giovedì Calabria, Molise, Puglia e Sardegna. Venerdì Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Il nuovo anno scolastico vedrà l'esordio dei tutor. Saranno oltre 52 mila docenti specializzati nel personalizzare la didattica e affiancare gli studenti durante il percorso di apprendimento. Cambia anche il voto in condotta, su cui peseranno e molto eventuali atti violenti o aggressioni nei confronti di insegnanti, personale scolastico e studenti. Nelle scuole di primo grado inciderà sulla media delle altre materie, al liceo anche sulla missione all'esame di Stato. Sul fronte Scuola Covid si guarda con attenzione agli assembramenti di bambini e studenti, coi presidi pronti al volontario riutilizzo di gel e mascherine, pur in assenza al momento di misure restrittive. Ma più del Covid in questa fase di inizio anno scolastico pesa sulle famiglie il caro studio. I prezzi di libri, di testo e dizionari sono cresciuti del 4% anche per l'aumento del costo della carta. La stima è di Feder Consumatori, mentre Astucci e Zaini del 6,2%. Ancora morti sulle strade, a Cagliari si ribalta un'auto, probabilmente per un eccesso di velocità, con sei persone a bordo muoiono, quattro ventenni. Lo schianto frontale è tutto in diretta social, è accaduto nel pomeriggio di ieri ad Alatre in provincia di Frosinone. Nel video si vede l'auto correre lanciata lungo la strada e sottofondo la musica rap ad alto volume. L'auto sbanda, finisce sulla corsia opposta, poi lo schianto contro una macchina, a bordo una madre con due figli. La più piccola, a 5 anni, viene portata con l'elisoccorso all'ospedale Bambino Gesù di Roma, ma non è in pericolo di vita. Madre, figlia o maggiore hanno riportato soltanto ferite lievi. Al volante dell'Audi un giovane magrebino regolare in Italia, residente ad Alatre, il video è stato acquisito dai carabinieri. E c'è l'elevata velocità tra le ipotesi su cui indaga la procura di Cagliari nell'inchiesta sul terribile incidente all'alba di ieri, nel quale quattro ragazzi, due maschi e due femmine, tutti tra i 18 e 24 anni, sono morti e altri due gravemente feriti. L'auto, una Ford Fiesta, su cui viaggiavano i sei, si è capovolta alla periferia del capoluogo Sardo, un impatto violentissimo contro un marciapiede, mentre la macchina percorreva la corsia destinata ai mezzi pubblici. Il gruppo di giovani stava rientrando a casa dopo una serata trascorso in un locale. Dall'inizio dell'estate sono 420 le vittime sulle strade durante il fine settimana. E adesso c'è lo sport, andiamo in Spagna perché dopo settimane di polemiche si è dimesso Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola. Tutto era cominciato, lo ricorderete, con un bacio non consensuale alla calciatrice Jenny Hermoso al termine delle premiazioni per la vittoria dei mondiali in Australia. E adesso il tennis Novak Djokovic ha sconfitto con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 Miedvedev, vincendo così il suo quarto US Open e il tennis serbo torna ad essere il numero uno del mondo. Vediamo. Infinito Novak Djokovic, il 36enne serbo, vince per la quarta volta gli Open degli Stati Uniti e torna al vertice della classifica mondiale. Sul cemento di New York, Nole si è sportivamente vendicato del russo Daniel Medvedev, che nella finale del 2021 lo aveva sconfitto negandogli il grande slam, ovvero la conquista nello stesso anno di tutti e quattro i principali tornei del circuito. Djokovic ha sempre ammesso di essersi sentito sopraffatto in quell'occasione e nella notte italiana ha preso rapidamente il controllo di un match combattuto e fisico, giocato sulle prime di servizio e sugli scambi prolungati da fondo campo. 6-3, 7-6, 6-3 i parziali per Nole, che ha poi indossato una maglia col 24, un omaggio a Kobe Bryant e la celebrazione del numero di slam festeggiati in carriera. Gli stessi dell'australiana Margaret Court, che deteneva il primato assoluto e due in più dello spagnolo Rafa Nadal. Kobe è stato un mio grande amico, oltre che un esempio di mentalità vincente, ha spiegato il campione di Belgrado, che l'anno prossimo a Melbourne, dove ha trionfato già dieci volte, punterà a diventare il più grande di sempre con 25 titoli. Ci fermiamo qui, adesso ci sono gli aggiornamenti sul traffico, poi c'è naturalmente Paolo Sottocorona come sempre, poi c'è Edgardo Gulotta che conduce il dibattito di Omnibus e poi Andrea Pancani che conduce Coffee Break. Linea Valeria Colombo, buongiorno a tutti voi.